Per iniziare Tiro cos'è questa cosa qua Via 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 questo Ci sta va bene Forse un po' di volume Attimo a 3% Giustamente però voglio anche mettere Oh intanto tu stai fermo qua Qua la qualità dice eccellente Quindi adesso fermi un secondo Ecco qua Stai un attimo così Fa vedere la qualità rimane qua eccellente Ok 1920 e 1080 ho messo Ok E che dovevo mettere la musica Giustamente un po' di musica Che non guasta mai Musica Questa Va vero Perfetto Sì qua va Coppolo il microfono Vedo che sto andando Ok Allora questa è la mia serie vanilla Che sto portando avanti Da solo Già porto qualche altra piccola live Su questa Questa vanilla Quindi se ve lo siete persi Non vi posso fare niente Tanto sto scavando un po' Così per cercare Cose Però ok Sento acqua Uh lapis C'è una lapis E beh Red Sun Però se non sapiene Vedete Questo è il mio inventario Ferro mi serve Ce n'ho Uno stack Più altri cinque E qui però no Sapete cosa? Allora Adesso Ok Voglio vedere Un secondo soltanto Meglio E Voglio farmi un attimo Un piccone in ferro Perché questo in diamante Non lo voglio sprecare Del tutto Facciamo così Ok Prendiamoci un attimo La frafting Allora fermi tutto Perfetto Andiamo È un po' più lento Però Pur di non far sprecare L'altro piccone Va bene Che ho Altri otto diamanti Però mi servono Quindi Insomma Un po' così Così la cosa Potrei mettere Anche Delle Shaders Volendo Fai vedere La Zeus Se mi va bene Eh Servirebbe L'ottimo Delle torce Guarda qua Beh Mi ho fatto Anche di fps Ci sta Ops Sorry Ok Proviamo Con la Optifine Un po' Cioè con la Optifine Proviamo un pochettino Con le shaders Vediamo come va Continuiamo così Per un po' Vediamo Se vi può piacere Di più O semmai Mettiamo Questa Anche le mie Shaders Preferita Fps Sono Sì 220 Sì Per Riesa di frame Non ci sono Però Sto scavando un po' Così perché voglio Trovare altri diamanti Perché soltanto 9 ce ne ho E quindi Non mi va bene Dove faccio anche Rocket League Come ho scritto Anche nel titolo Però sapete Che forse Con le shaders Si va un po' A rovinare Il tutto Shaders Void Mai provate La Void Dove lo dirlo A provarlo Vediamo un po' Com'è Wow Oddio Dio le fps Sono Dio si sente Che Sono calati Si sente Tantissimo Che sono calati Fa vedere Se forse Riesco a mettere La cuda Quella è base Beh Diciamo che No però Con le shaders Si va veramente A perdere Quel tocco Proprio Ecco Ora si C'è anche questa qua Nella shaders Però soltanto Per la motion blur Per far vedere Un po' più Vedete Un po' mezzo più fluido Mezzo no Mamma mia Quanto va bene Uii Redstone Quindi livelli extra Sapete che forse Risalgo adesso Ho sentito Ho sentito Le mostri qua Forse no No mi sa di no Beh risalgo Sapete Quasi quasi Si risalgo Tengo le torce Qui con me Perché Non vorrei Incappare In qualche Come si chiamano Mi viene il nome Non vorrei Prendere Come si Non mi viene il nome Ragazzi Lo giuro Non mi viene il nome Come cavolo Si chiamano La gravel Non vorrei Prendere Veramente Fastidiosa Oppure la sabbia Oddio Se spunto Nel deserto Veramente Ma io che cosa Ho detto Che giustamente Avevo ragione Ecco cosa ho detto Intanto C'è l'altro cibo Si ce l'ho Devo metterlo a cuocere Siamo a proposito Sapete cosa Nel frattempo Metteremo le coordinate Coordinates Coordinates Dove sono Trovo le coordinate Scounter Direction Coordinates Eccole qua Ora Ce le mettiamo Così Belle grandi Però Non voglio Quello lì sottofondo Ecco questo qua Background Color No Ecco così Molto più Facile Siamo in una foresta Incredibile Paule Siamo fuori Dove siamo finiti? Oddio Dove siamo? Ma che What? Allora Forse si è mezzo Buggato Quindi Sapete cosa Faccio adesso Intanto Metto la mia Texture Pack Personale Che è Questa qua Eccola Mettiamo sì E clicchiamo Apply E sta la mia Texture Pack Personale Che è proprio Eh Con pure tutte le nuvole Così Quanto bella Questa 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 Lexture Qua è bellissima A questo Possiamo buttarlo Facciamo così Questo Facciamo così Ok Ce l'ho la lana No che non ce l'ho Quindi Io ho una Poi mi tocca Fare un attimo Un po' di pulizia Facciamoci un attimo Gelletto Voglio fare Rosso Questo è il rosso Eh Un red Un po' particolare Perfetto Andiamo pure Il letto GG La carne L'ho presa Di maio Sì Posso anche Prendere la carne Allora Sta apposta Non mi ricordavo Ad averla Allora mi sa Che io dovrò Serminare Per prendermi La carne Ecco Già sono finite Le pecore Tutte scomparse Appena ho parlato Di carne Tutte le pecore Scomparse Perché mi ha messo Oh mio dio Smart Fancy Grazie Ecco Ciao Piccola Pecora Ho bisogno Di tantissimo Cibo Voglio prendere Il più possibile Perché Se no Muoio Che ordinate Stiamo? 64 Che dove Stiamo proprio Ecco Orecchio Che c'è qua sotto La caverna continua Anzi Una qualche caverna Continua Allora 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 La streaming Mi sta piacendo Allora Quanto abbiamo Di legna È mica Tantissimo Comunque Ho un sacco Di minerali 8 diamanti Ho anche 4 di ossidiana Mi servirebbe Ok Quindi la zucchero Ce le ho Fortunatamente Quindi cosa Che mi manca? Non so Mi manca qualcosa Ma non so Che cosa Vorrei prendere Un altro po' Di legno Quasi Però no No Sti cavoli Lasciamo perdere Non serve a niente Mucche Sì La pelle Oh perfetto Posso anche Esterminare Queste mucche Qua Purtroppo È una cosa Bruta Però Ragazzi Mi servono Più ci vuoi Meglio è Allora Proprio Già Sterminare Tutte quante Ne erano poche Allora Vediamo di qua C'è una pianura Voglio vedere Io Devo riuscire A trovare Un villaggio Io non mi sistemo Che quando non Trovo un villaggio Però c'è Dell'altro ferro Qui Eh c'è anche Un bellissimo Creeper Bellissimo Oddio Mica tanto I creeper Non sono Così belli Irony Ok Facciamoci Le cesoie Prenderei Un po' Di Sì Perché No Sì Almeno Uno stack Lo voglio Prendere Prendiamoci Uno stack Di foglie Qua Da 53 Eh In pratica Abbiamo Già fatto 4 5 6 7 Lo facciamo Così Direttamente E via 64 Ho raggiunto Tutta sta cobblestone Non mi serve A me La posti Cavoli Ah beh Il pane Lo posso buttare Quindi Nel caso Facciamo un attimo Così E via Eccoti qua Eccoti qua Iepi Foglie Ecora Quanto mi manca Per avere un altro stack Ancora un po' mi manca Giù sono arrivato allo stack Ok Niente ce ne possiamo andare Ci sono tantissime altre mucche Dove arrivare un bordello di cibo Dove arrivare perché mi serve Intanto devo rifare Tutti gli utensili Devo ancora rifare Da capo E' un po' una rottura di scatole Un po' Un po' tanto Potrei stanziarmi qua effettivamente No però qua c'è la caverna Quindi non mi conviene più di tanto Ah non è una caverna qua Ok Ah no si è una sorta di caverna Ci sono pure i cavalli Oddio Allora non c'ho la sella Quindi non posso fare niente Sta pure piovendo Oddio mia Vabbè dai Voglio questo villaggio Su Fammi trovare questo villaggio No 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 Phantom Via 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 phantom E' la prima volta che ne incontro uno Sapete Lo giù è la primissima volta Ah ah A me rincorrere Esplodi pure Che riparino Intanto me ne vado Che sei andato del phantom Se ne sta andando Si se ne è andato Ok Dove posso trovare un villaggio Proviamo ad andare da questa parte Boh Lo capita 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 Potrei fare una barca E andare di qua Contro il legno Se no ne ho tantissimo Però Almeno Facciamo così Ok dai Poi mai la posso rifare In pratica Una barca dai Allora lo scudo vorrei un attimo levare Perché Ecco qua Per comodità Un delfino Oddio Perché va così a scatti Che cosa brutta Forse è la shaders Però va Sti cavoli dai Sti grandissimi cavoli Qua c'è Ok C'è il deserto? Non c'è il deserto Io il deserto Devo trovare Almeno Questo non è il deserto Lì non c'è sicuramente il deserto Passiamo qua a destra Oddio però Se mi sembra che sta laggando tutto Quando giro così Devo cercare di andare In una direzione dritta Così Ecco Proviamo un attimo a levare proprio la shaders Oddio Guarda il fulmine Quante figo Proviamo un attimo a levare proprio Completamente la shaders Leviamo tutto 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 Perché almeno Arrivo a 1000 fps Tranquillamente Quindi Togliamo tutto Ok Questo togliamolo Questo qua Questo 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 Tu via Vuoi vedere No lagg È una cosa della versione Allora Ora il relitto qui vicino C'è un relitto qua Questo C'è pure una chest Vediamo se riesco a trovare Proprio qualcosa di Interessante Ok Ho sentito un bruttissimo suono E qua abbiamo Le patate Queste ci servono Che levo Che levo Dove che stanno Vabbè via 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 Scusate se lagga Però Non sai che sta laggando Però boh Sta a fare così da solo Oddio Scheletro Ti prego Accelera Scheletro Non mi ha visto Vero No Io vorrei provare A trovare Allora O trovo Il tempio sottomarino Contro Col culo che c'ho io Anzi Con la sfortuna che c'ho io Lo trovo adesso Volendo Oppure Non lo so Intanto Continuiamo ad andare Un po' dritti C'è un sonno assurdo Non potete capire Adesso sono le Le 3 e 10 Allora Uh Barriera corallina Devo fermarmi un attimo Per prendere delle cose Quindi togliamo un attimo Questo Devo prendere almeno 2-3 coralli Che mi serviranno In futuro Quindi Li prendo ora E non li prendo più Allora Prenderei Sapete quali Non lo so Perché tanto Sono tutti indifferenti Prendo questo Qua giallo Non si può prendere Vero Ai 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 Non me ne siamo ancora Desso conto Vabbè Dopo ci torno Allora Coordinate fatte Le foto Scherzi La foto La screen Anzi Facendo attenti è così E andiamo Però il relitto Mo ci vado Perché voglio vedere Com'è Ho dimenticato Di raggiungere Le nuvole Quando piove Beh In effetti Quando piove Non ci sono le nuvole Quindi forse È meglio Se non ce l'ho messa C'è un po' D'ossigeno Qua dentro Mi sa di no Però c'è la cesta Le patate Ce le prendiamo Perché poi Ci voglio fare la farm Quindi Ce le prendiamo Meglio Allora Le saliamo La barca È qua Allora Ci sono io Possiamo pure buttare Scendiamo Andiamo a largo Andiamo all'allargo Dai Forse possiamo trovare Qualcosa di interessante Ancora C'è ancora Questa Remota possibilità Ehi Delfini Tornate da me Vedete quasi Mi butto nell'acqua Che succede Delfino Delfino Sarà attratto da me Ehi Ciao Ah che bello Adoro gli animali A parte lì I mostri Ecco Ehi Che bello Però Sì Non posso starci a morire Mi spiace Sarà per un'altra volta Cos'è questo qua a destra Questo qua davanti Che cos'è Ah è pieno di mostri Però Madonna mia Ci stanno Con 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 Non sembrerebbe Quello con la canna da pesca Ok Tridente Tridente Nessun tridente No sono inutile Allora Uh passiamo qua al lato Poi un mare aperto Proprio così Smettesse di Di No so Di mezz'ora a gare Mezzo si mezz'ora Non si capisce Qui c'è sui piragni No non sei piragni Però Se dovesse raggiungere i piragni Ragazzi Io Posso stare Per sé La persona più felice Al mondo Mazza Che relitto gigante Che c'è là Guarda È gigante Come relitto Subito 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 Guardate Che bella Sta zona Guardate Quanto è fatta bene Se Farvi vedere Guarda Mamma mia Troppo bene Fatto Allora Fermiamo la barca Qui Butto un attimo Ok Ok Qua Posso vendere un attimo Aria Qua c'è anche la cesta Però non si apre Ok Ah mappa del tesoro Sii Paper Perché c'ho della carta qui Non ci faccio niente Quindi guarda La rimetto Al suo posto Allora Questo poi lo andiamo a vedere Dove sta vicino No Quindi poi lo andremo a vedere Andiamo a vedere qui sotto Se c'è qualcosa altro di interessante Non sembrerebbe O forse c'è qualcosa proprio qua Ok Fermi tutti Oh mio dio C'ho le torce ancora No L'ho buttate tutte E deve fare Eh vabbè Sprecato un sacco di tempo Sprecato Vediamo qua Secondo non vedo che non c'è niente Appeso Ok c'è sta Guarda Che culo Le carote Le carote Le carote Il posto di Posto dello smeraldo Non ci faccio niente Tanto per il momento Ok Via Già ci stavo per morire Ma com'è possibile Via sabbia Ok Proseguiamo Fino ad ora lo stream È ancora eccellente Dice qua a me Quindi Siamo contenti Ops Ho toccato il cellulare Quindi Forse Conoscenza Si è un po' impappinata No no Invece no Sta tutto a posto Allora direi di continuare a piedi Anche perché Sennò dopo la barca Sembra che lagga troppo E mi dà fastidio La barca che ce la vogliamo portare La lasciamo Io direi di lasciare Non è che ci serve più di tanto Adesso Cioè nel caso la rifaccio Non è un problema Allora continuiamo da questa parte Dice Perché sta cadendo adesso la lava? Mi sembra strana questa cosa Forse ho fatto una cazza Ad lasciare la barca Cioè ora indietro Non ci torno a prenderla Ma perché sta cascando adesso? Scusami Doveva cascare prima la lava Mica ora Altro relitto Ci posso arrivare nuotando un attimo Che dita Ma si tanto un attimo solo Non è che Non è Cioè non vado più Così Non vado così lento Alla fine Prendo un attimo un po' d'aria Tanto ci sono Non vedo i mostriciattoli Quelli là dell'acqua Mezzi morti Mezzi sì Mezzi no Quindi allora adesso 3 2 1 Prima la sotto andiamo Quello del capitano Insomma Stanza E Cioè ho fatto benissimo Cioè forse la scelta più giusta Che io abbia mai fatto Poi smeraldi Non ci importa Ok via 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 Subito Ok ora dobbiamo andare Qui sotto Sento brutte cose Qua fuori Ok basta Non c'è più niente Qua invece c'è un'altra cosa Cazzarola 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 Eh Appare il tesoro 2 No però i libri ci piacciono Eh dove li metto No niente Raga pesa Ah Affogato Via Devo andarmene via subito Delfini Please help me Per favore delfino Dammi la mano A nuotare più velocemente Eh c'è un altro Lì sotto Ciao piccolo Fammi la nuotare più velocemente Per favore Ok sto nuotando più velocemente Mazzà quanto veloce Altro che barca Ok ci siamo Tieni Ehm Dio santo Non sto neanche guardando Dove sto andando Casù Ok Quando è che smette di piovere Non ce la faccio più Lì che c'è E' un altro relitto Cioè io sto guardando Relitti su relitti Soltanto Scusate ma Boh Cioè sono a tratto Dei relitti Ma vediamo se in mezzo a questa foresta C'è un villaggio Se c'è oppure no Lo sto disperatamente cercando E voi non capite da quanto tempo Da 3-4 live su minecraftita Ed è troppo Tempo Oh c'è anche la zona Dei fiori La Cosa flower Non mi viene il nome Ecco la cesta Ah Ti pareva Oh io mi stesco a rompere così Questo Sì Oh quanto bello Sperati che faccio Li prendo A questo punto sì Cioè mi li da così Tanto Cioè Boh Basta Non c'è Non c'è altro Provo ad andare Sapete dove Qui sopra Qua c'è un buco Vediamo No Non c'è Non c'è altro Vedete non c'è Eh no Non c'è altro E' finita così Vabbè Sì Cioè Vabbè Non poteva andare meglio Ma ok Conta carne 45 e 29 Ma io direi che La pelle però ne ho poca Quindi Poi mi servirà Fare pure la farm Oh mio dio La farm di mucche C'è un villaggio Che culo Dove sta il villaggio? Qua l'avevo vista Eccolo qua Ma male che qua sopra Che culo raga Finalmente un villaggio Ah Della Birch Forest Villaggio Birch Forest Ci piace Vediamo se c'è qualche bella cassa Che mi posso rubare Cioè Utilizzare Cioè Sì Avete capito Dai Eran Golem Non è niente Eran Golem c'è Quanto bello Guardate qui Ma quanto bello Vabbè Ma l'Eran Golem Non c'è Peccato Però c'è una bellissima chest Mele Patate Ma io tanto Mi stanzierò qua Perché Sì Mi prendo questa casa qua Probabilmente Vengo a fare l'immigrato Quindi cosa sto facendo Che sto rubando Dalla mia stessa chest Piuttosto Fatemi mettere Tutto quanto Qua dentro Allora Questa ormai È consumata La possiamo anche Potremmo anche buttare Mi rifaccio Un attimo i materiali Mi rifaccio Sì Quindi Mi faccio un attimo Tutte le listiche Che posso fare Allora Mi serve adesso Quattro Io perché Ho già un letto Qui dentro Facciamo già uno Questi due letti Li butto Perché non ci faccio niente Anzi Vado a mettere Dentro un'altra casa Qua è dove Ho già rubato Facciamo Così E così Quindi questo pure Così Anzi no Facciamo tutte e tre Vicini vicini Dai Così Questo via Questo qua Ah Perfetto per voi Ok Sta arrivando la notte Ecco l'iron golem Che se ne sta Andando Ok Va bene Bravissimo Allora Facciamo questa Qua avevo Un letto in più Ancora Che dovrei buttare Però Ora Non ne ho voglia Queste sono cose Che devo pure levare Oddio La mia accetta Vetro Qua c'è il vetro Sì Ok Lo facciamoci adesso Due e tre Ok Allora Piccone Accetta Spada Quindi Mettiamo Allora Questa La possiamo anche Buttare Quanto utilizzi Altri utilizzi Faccio Uno Due Tre E poi lo rimetto Perfetto Allora Poi adesso Un'altra cosa Che voglio fare Perché mi da fastidio Vedere così Levare la mossi Cobblestone Così Così Bene Bene E Ma la mossi Cobblestone La posso separare Dalla muschio Non lo so Sapete che non lo so Devo vedere Non me lo ricordo Poi fornaci Oh Le fornaci Allora Facciamo che Le metto Così Questo No Non lo posso aprire Quindi Mi conviene Metterle Uno sopra L'altro Così Proprio impilate Lo facciamo così Mettiamo da una parte Quasi le queste Da una parte Quest'altro Quindi così E così Poi Ho il piccone Diamante Mi posso fare Già la Si potrei fare Effettivamente Caglia a zucchero Dove sono? Ecco Caglia a zucchero Poi Poi Uno di pelle Due diamanti E quattro Di ossidiana Perfetto Ci facciamo E prima Inchantment table Così Così E così Eccolo qua E lo mettiamo Per il momento Qui Tanto per Per far vedere Che insomma Vorrei dormire Ecco se mi hanno setto Giallo spawn Dai che buono 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 Partiamo veramente Benissimo Questa vanilla Anzi Continua Veramente in modo positivo Nel frattempo Un attimo Vorrei vedere Qui Qui non c'è niente Qui Ok Il fabbro non c'è Giusto Oppure questo No non lo so Se questo è il fabbro Qui non c'è niente Di sicuro Uh questa qua Questa mi devo Mi devo fregare Me la rubo Perché non ci fanno niente Nel futuro Ci metteranno qualcosa Quindi non vedo Perché non dovrei Prenderla Poi Vediamo qua Vediamo prima qua dentro C'è qualcosa Niente Mentre di qua Cosa c'è Una cesta Con delle cose Un po' così E basta Il calderone Poi nel caso Vengo a rubare qua fuori Cosa è successo Qui fuori Vabbè Qui avevo già visto Che non c'era niente Qua sopra Cosa c'è Di altro Che prima non ho visto Sono cascato Senza manco vedere Dove cavolo Sono cascato Quindi Ok GG per me Uh Facciamo un attimo Una cosa Una piccola scaletta Ecco Sono stupido Una piccola scaletta La devo fare Qui non c'è niente Vero no Niente Qui non c'è Ah questa era Tipo il cavolo Ah la blast furnace Questa è per I minerali più velocemente Che non mi ricordo neanche Che mi sa Tipo che per farla Ci serviva Cos'era La Redstone Quarzo Un po' Un po' Un po' di minerali E io Non ho sbattimento E andare a prendere Quindi È una cosa positiva Devo dire Quindi La nostra casa Qual era? Questa qua Questa qua Questa più in basso Questa più lontana Di tutte Che però ci piace Devo dire Ci piace Veramente tanto Allora questa è la mia armatura Completamente full ferro Vediamo Qua 13 Qua 13 Anna Baker Praticamente Allora posso fare Volendo Una spada E i gambali E io penso Che farò una cosa Del genere Quindi sì Spada E gambali Eh che I gambali Sì No Li incanterei dopo Effettivamente Adesso non avrebbe Alcun senso Inchantarli Poi voglio Fare adesso Vediamo se riesco A trovarla Ma vorrei fare La Questa Questo è il barile Ah è facile Da craftare Vorrei fare Come si chiama La fornace Quella per Eccolo qua Lo smoker Questo Fornace Con 4 log Attorno La fornace Io ne prendo Una di queste qua Appena finisce E sto a posto Tanti mie che parlano Di là Ma lasciate perdere Per favore Allora Mi sarò 4 log Mi servono E dove li prendo Io A quali posso andare A prendere Ovviamente Comunque Vi sto divertendo La live Spero di sì Non ho avuto Fino a mo' Nessun calo Di frame Cioè Lo 0,3% Di frame Di calo Ho avuto Per un attimo Però va bene Allora 4 log Ce li abbiamo No perché Ho messo Questo qua È brutto Da vedere Piuttosto Faccio Un pulsante E dai Ecco qua E lo andiamo A mettere Direttamente Dentro Qua la casa MLG Oh Sono bravissimo Sono veramente Bravo Lì c'è Un villager Vicino A una Pecora Sì Ok Va bene Mettiamo Il pulsante Qui Grazie Fornace Questo è finito Quasi Quasi Non manca molto Allora La spada Non so se Inchantarla Adesso E poi Re-inchantarla Però il piccone Di sicuro Perché unbreaking Li lo devo mettere Quindi Tanto C'ho Due stack Di lapis Quindi Possiamo farlo Efficiency Efficiency È soltanto Efficiency Purtroppo Va bene E sulla spada Invece Knockback Sharpness Per il momento Lasciamo perdere Beh Invece Qua Riesco a metterci Protection No no Questi Alla fine Sono una delle ultime cose Che inchanteremo Le cose in diamante E noi le inchantiamo Quasi mai Quasi per niente Anzi volevo dire E Nel frattempo Che Io vorrei mettere Canina zucchero Qua fuori Che adesso tipo La sotto No qua La sotto no Perché non c'è l'acqua Vediamo Allora Lì sotto No no Lì No 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 Mi faccio un ruscello d'acqua Ho capito Tipo qua vicino Non lo faccio Giusto per Capitemi Insomma Al momento facciamo una cosa del genere Mettiamo una E due Finito Cioè non Però la sotto c'è dell'altra acqua Potrei effettivamente provare a fare Sì potrei fare una fonte di acqua infinita Sto a posto così almeno Sì è geniale Geniale Faccio così Questo lo metto di qua Fonte di acqua infinita Ce l'ho Quindi continuiamo a far Mettere l'acqua Da queste parti Uno Due Facciamo così E ok Il ruscello è fatto Adesso devo solo aspettare che crescano Non penso ci voglia molto Spero non ci voglia molto Perché se no Insomma E mi devo fare Ecco Presto il plate ce l'ho La mettere qui Quando esco e rientro Almeno sto già a posto Adesso Questa è fatta Ci dobbiamo fare Adesso Lo smoker Che si fa Così I 4 log Ai lati Fornace E col centro Abbiamo anche lo smoker Per il cibo Ciao A dopo Quindi smoker Guardate quanto coce più velocemente Rispetto a prima Qua coce Più lentamente Invece qua È già molto più veloce Vedete Adesso Questa carne La possiamo mettere qui Abbiamo già 39 pezzi Più quelli che sta finendo di fare Stiamo a posto Per Giorni Mesi Anni Millenni forse Carbone Mettiamolo Qui il resto Questo però Non ci ho messo niente La blast forne Se ci conviene Mettere a fare Intanto il ferro Dove sta il ferro Ma l'ho preso il ferro Almeno No Oh eccolo Sono dimenticato proprio Di vederlo Guardate quanto è veloce Pure per i minerali Cioè È fantastica Questa cosa Vediamo un po' Nel frattempo Vorrei prendermi Dell'acqua Qui al lato E voglio anche Vedere Voglio ottimo vedere Qua al lato Com'è Il mondo C'è questa parte Di mondo Ci sono pure Le pecore Mucche Un canyon Quindi potrei effettivamente Tornare in caverna Che scende anche tanto Devo dire Quindi facciamoci già Una cascata Così Siamo già Avanti Sì Cioè Siamo Messi veramente bene Cioè È una bella zona Però qua che mi ha messo Veramente Ok Quindi Qua le carote Ok Le barbabietole Qua No Le beetroot Non me le puoi andare A mettere Lì Perché la chat È lì Adesso Boh Non lo so Non me ne importa Allora intanto Qui c'erò Altra acqua Voglio un attimo Scendere E vedere Com'è Voglio vedere Quanto si scende Voglio vedere Qua siamo a livello 30 E qua continuo a scendere Potrei continuare a scavare sotto Siamo a livello 25 Anzi 24 E continuare poi a scendere Scavando per conto mio Sarebbe una cosa Mamma mia ragazzi C'è proprio Che culo Allora Intanto Mi stanno scrivendo In continuazione Mi vedo tutto Allo smartwatch Vedo Lì potrebbe Continuare a scendere Ma non so Fino a che livello Di suo Questa caverna Arriva fino a livello 25 Quindi Molto buono Solo che non so Effettivamente Quanto vada Bene per me Scavare poi sotto In basso Perché non so Se riesco a trovare Un'altra caverna Vabbè Vediamo un attimo Ancora nei dintorni Lì non c'è niente Però io voglio provare A fare questa cosa Adesso Arriviamo fino a 32 chunk Non voglio Sgravare troppo Vediamo Vediamo Quanto mi va Allora La memoria Ho messo 6-7 giga Quindi effettivamente Dovrebbe andar bene Spero Vada bene Perché se no Mi taglio le vene Forse Mi taglio Anzi Prima il collo E poi le vene Prima le vene E poi il collo Oppure Soltanto uno E soltanto l'altro Sarebbe Meglio Allora Saliamo Un po' Mangiamo Uh Ok 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 32 chunk Carica su E' un po' lento A caricare Devo dire Però sta facendo La sua Figura Guardate lì Ok Ma lì Ovviamente non carichi Altro Scusami Oh Devi caricare Cioè Io voglio Voglio vedere Ma Cioè poi mi chiedo Ma perché Sta cosa Dei 32 chunk Non va più Non lo fa Non capisco Veramente Cioè Certe volte Non carica Non carica 32 Quindi non so 32 chunk Ok E' una sfida 64 chunk Allora Vedete Non carica Più di tanto Vi rendete conto Non capisco Il motivo Però Ok Fino alla caricato E basta Non carica Oltre Forse Vedete Ha un Limitatore Hanno messo Un qualche Limitatore Che proprio Non ti carica I chunk Io non capisco Fatemi vedere Se Ah Aiuto Forse Il biome blend Può essere Potrebbe anche Essere Di te Proviamo Metterlo Tipo Al massimo Boh Forse Così va Meglio Non va Ma perché Non va Che ore sono Ok Dopo Dove Dove Un attimo Uscire Con la Macchina Dove Andere A Prendere Mia Nonna Quindi Insomma Dovere Di un Patentato Allora Details Questo Lasciamo pure Così Swamp Course Details Abbiamo già Visto Animation Abbiamo visto Quali Quality Qua Questo Effettivamente Non serve A niente Lo potrei Levare Better Grasp Fancy Giustamente Predo Entities No Cosa Facciamo Perdere Casa Model C Other 28 Minuti Full Screen Quanto Quanto Lo posso Mettere Video Di 80 Ok No Lasciamo Perdere Va Ok Lì Sta Caricando Ancora No Lasciamo Perdere Perché Non me Ne Frega Più Niente Mettiamo Piuttosto 8 Quello Di Base Intanto Non c'è Ecco Facciamo Così Salviamo E usciamo Un attimo Wow Ok Rientriamo Il mondo L'ho chiamato Bono Anzi Bono Tipo Così Dovrebbe Essere Quanto 30% Di 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 Memoria Not Bad Not Bad Stai Tornando La Notte Sapete Che ho Scoperto Che Se Lo Steve Insomma Il Personaggio Attacca I Villager Il Golem Non fa Niente Mentre Invece Tu Tu Devi Tornare Devi Tornare Di La Allora Ciccione Di Ferro Vai La Per Ti Prego Vai La Torna Il Villaggio Si sta Facendo Buio Tu Devi Andare Di La No Vai Di La Allora Ti devo Ti devo Attaccare No Mello di No Che Dopo Tu Attacchi A Me Quindi E Non Mi Conviene Vai 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 Bravo Vai 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 Bravissimo Continua Così No No Io Attacco No Scherzo Se l'attacco Dove So Cazzi Non Ditemi Che Sotto Qua C'è Una Caverna Vi Prego Vi Prego No Mi Sa Che C'è Una Caverna Qua Sotto Ti Prego Dimmi Di No Mi Sa Di Si Sono Vicinissimo Qua Sotto Ancora Eh Madonna Quanto Devo Scendere Qua Sulla Sinistra Sento Ma Fa Fa Un Curo Tutto Va Oddio Santo Dai Quanto Quanto Acchiacciola L'ho Fatto Sapete Cosa Voi Qui Non Avete Visto Niente Bene Bene Ma se portassi Un mostro Dall'u Del Cos Dalle Rongole Ma se Stava per i fatti Suoi Così Quanti Scheretri Mamma mia Allora Cibo Fatto Ferro Puh Mazza Quanto Ferro E Mettiamo Questi A posto O 57 Bistecche Mio Dio Quante Vediamo Cosa te lo potrei fare Ah intanto Prendermi il piccone Questo qui Sì La spada Sapete cosa Farei Una cosa Del genere Direttamente Raccetta Va bene Questo Ok Questo Ma prendo Perché Ok Vorrei poter Fare Non posso Però Mannaggia Volevo fare La farm Di rotaie Ma purtroppo Non ho Le cose Gli strumenti Necessari Però Intanto Vole a dormire Perché Voglio vedere Come se sono cresciute Le cani da zucchero In teoria Dovrebbe Crescere Uno Ogni Dieci minuti Se non Prima Dove stanno Qua Eh non Sono cresciute Per niente Vai Vai Sì Sì Disturge Tutti Lui Grandissimo Campione Grandissimo Grandi Facciamo Pancia E pancia Facciamo Grandissimo Allora Questo è quello Della farm 20 di grano Per Gulo Questo è da salvare A tutti i costi 20 di grano Uno smeraldo Eh ma Dipende Delle altre Cosa mi danno Tipo Quello Là sotto È un villager Comunissimo Che non serve A niente Lo dico Perché la verità Ma è l'unico Villager Che c'è L'unico Tre villager Ci sono Qua Tre È uno scherzo Ma se ti faccio Il Ah Eh Giustamente Se riuscissi A fare Potrei dare un lavoro A tutti quanti Se riuscissi A craftare Tipo Il leggio Che però Non so come si fa Perché non me lo ricordo Che non l'ho mai fatto Leggio Qua non c'è Qui Non c'è Come si fa Il leggio Mi servirebbe Tipo un libro Penso Fermi un attimo Soltanto Faccio vedere Poi Vi faccio vedere Leggio Minecraft Vediamo se lo troviamo Il lectern Sì Come si crafta Fammi vedere un attimo Giusto Due secondi Fai che ci sta dopo Come musica Boh Non si sa Bello Sto crafting Devo dire Cioè Quanto è bello Sì Questo qua Ok Più di questo Tutto qui È una cazzata assurda Farlo Ok 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 Va benissimo Craftar Sovrini Sono sbagliato Allora Mi serve Quindi slab Ce li ho Subito Un due Tre Guarda qua Perfetto Di cui Li mettiamo Li mettiamo qua E mi serve E mi serve Allora Quindi Tre libri Mi servono O per Dianavich Sapete cosa faccio Nel frattempo Un attimo Minciamo tutta Armatura qua Ed anche I vari strumenti Qui Allora Protection Protection Faccio livelli base Comunque Quelli che Che sì Allora no Però voglio comunque Una cosa decenta Allora Unbreaking Sharpness Prot Prot Efficiency Almeno per essere Più enchantato Più protetto E questo Almeno Glielo metto Al culo Ah no Questo è quello di prima Ok Sì Dovrei Cercare Altri cani Da zucchero Vado a vedere Se si trovano Nelle vicinanze Fatti un attimo Ricordare la memoria A quale coordinate 3.300 E meno 1.300 Ho frecce Grazie Quindi 3.300 E meno 1.300 Oh Cogna a zucchero Vai 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 Non ne trovo altre Qui Non ci sono Penso di no Però Vai per il momento Sto andando bene Questa vanilla Mi piace Oh però Devo anche far sì che Dove che sta Quality Ecco questo Rimettiamo al massimo Perché sennò le foglie E tutto il resto Si vede un po' male Invece così Si vede Ecco come si vede Guardatela come si vede bene Adesso questa zona Ah relitto Bello Che bel relitto Tra l'altro Bello bello Questo Se riuscissi Lo potrei completare Oddio E farci una nave pirata Gigante Madonna che idea Sarebbe fantastico Fare una cosa del genere Ok Adora vediamo un attimo Ecco Ci mancava solo questa Chest Un'altra cosa della mappa Vediamo se come L'altra mappa No però Oddio Stiamo vicinissimo Al tesoro Andiamo a prenderlo Allora Comunque libro Trovato Vediamo se c'è qui Qualche altro libro Qua dentro No però c'è il grano Che ci serve Il bambù Ma che culo Per il bambù Adesso c'è qualcosa Per sapere Sì sì C'è come qualcosa Eh la maiella Quante cose Eh noi ci prendiamo tutto Non ci dispiace per niente Allora due libri Ce li abbiamo Ah Eh ok Torniamo un attimo Verso già Qui Verso la Verso il villaggio O forse Tornando qua Troviamo qualcos'altro Qui tipo Non c'è niente I lupi Non ho le ossa Allora Fermo Voglio un attimo Andare a vedere Ecco qua devo andare io Ah proprio verso il villaggio C'era un tesoro qua vicino E non lo sapevo Quindi Praticamente È qua Ci sono sopra È qua sotto Ok Devo Solo scavare Per trovarla Adesso Sarà un'impresa Per me Ve lo dico Perché non ho mai trovato Un tesoro Quindi scavo Bello attorno In questo modo Perché devo trovarlo Tutti i costi Lo troverò Scriviamo 4 e 4 Vediamo se Vediamo Fa vedere un po' Più di qua Più di qua sta Sì sì Sta più di qua Eh sì È in questa zona qua Però non capisco dove Ti prego Fatti trovare Tesoro Oh No Aspetta Allora Vediamo di Trovare Questa Beta Chest Se possibile Anche subito Perché non voglio Perderci troppo tempo Qui non lo vedo proprio Non è che sta più di qua Scusami Non è che Cioè Vorrei Non vorrei dire però Qui no Ma Dove Mi sta venendo da ridere Dove sta Scusami Il tesoro è qui Ok Ma dove Di preciso Non direi Non li mettono sotto Qua dove sta la pietra Ma non l'hanno mai messo Non penso La mettano adesso Proprio Perché Così Oh Acqua di Grazie Io provo a vedere Qua sotto Ma non penso Ci sia Cavolo No no Qua sotto Non c'è Lo dico io Non c'è Eccolo C'è Stai trovata Stava proprio Di uno Di uno Di qua Stava Di uno Allora Via uno Due Ti prego no E invece si Ok Appena in tempo Eh Sott'acqua sono Adesso Merruzzo cotto Ma è buono 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 Questo Earth of the sea Cuore del mare Che mi serve Scusa Che io Sono un po' ignorante In materia Allora Questo intanto via E Sono cresciute Le canne Da zucchero Sì Sì Che una è cresciuta Quindi Quindi Quattro Cinque Sempre a Eh no Sono sempre Sempre la ferma Se cresceva pure l'altra È perfetta Adesso a cinque I pillager I pillager Taccano il villaggio I pillager No Pure i villager No però Adesso Dai No Via Questo è il mio Villaggio Vuol dire che c'è una cosa di pillager Qua vicino Allora Oh Oh mio Standard Ah Campana sono andato Bravissimo Bravissimo Calmo 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 Vieni qui Ok che mi dai Schifo Tu puoi anche morire Allora Oh mio No No Non sono attrezzato Per combattere Questi tanti pillager Oh mio dio Ok ok Che una ferita Mi fermi tutti Fatti mi poggiare le cose più cose importanti Quindi tutto poggio Tutto Mi lascio altanto la spada Praticamente Il cibo Dai dai Non mi posso muovere Se mi muovo Sono cavoli Se mi muovo Ok Stai dando Ho anche la Questa La balestra Buono 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 Ma da dove stanno arrivando? Che da qua le ho visti arrivare Un attimo Ho visto arrivare da qua Ma Sono spawnati a casa Sono spawnati Ma questi sono gli avvocatori Tipo Lo sbaglio Smeraldi Vieni qua Ciao piccolino Vieni Non scappare Vieni qua Piccolino È il cavolo Il banner è mio Dammi il banner Il banner è mio Il banner è mio Mi ha rubato Mi ha stilato il banner Allora Quel banner è mio Quanti Chi è che vuole Fronteggiarmi ancora? Tu? Non dimmi che li hai fatti fuori I miei villager Ti spacco in due Accetta pure rotta Ok Sono finiti per oggi I pillager Oddio mio Allora Abbiamo cose Sta piovendo? Oh I pillager sono finiti Meno male Non mi dire E tu chi sei eh? Oh Brutto Ognuno che non sia alto Golem Golem Schifoso ambulante Schifo Oddio santo Che schifo Che No No amico mio No Non l'ho fatto apposta Non l'ho fatto apposta Gesù Santissimo Sono morto No 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 Fammi mangiare Ti prego Fammi mangiare Veloce 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 Ah Aiuto Ah Mi insegue un cosa strano Mi insegue Oddio no 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 Oh Qua ti ha posso ammazzare però Via 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 Sta rompendo le foglie Aia Aia No Fa male Cazzo 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 Via Mi insegue Un cosa strano Mi sto inseguendo Ha finito le frecce Ha finito le frecce Sei morto amico Ma l'altro Ah il coso gigante sta là Ok Raga io non capisco Dove sta quel ride Cioè Dove Dove lo stanno Facendo Allora Ah Mi sa che posso dare Tipo il ferro per curare il mio Ah no Nella 1.15 Posso dare il ferro All'aeron golem Per poter Eh si però Dove è l'aeron golem Dove è l'aeron golem Allora questo qua deve morire a tutti i costi Si Si pure la sella adesso Si Ma l'aeron golem che fine ha fatto Ma non mi dite che è morto No Ma no Ah no E' qui Oddio Uh Ok Amico mio Meno male che sei vivo Perché se no Guarda Ti devo far curare Ti devo curare in qualche modo Si Eh ci sono altri qui C'è un altro pillager Schifosi Pillager Hai finito le frecce Ma che disdetta Cioè io ho tre banner di questi Avete finito? Grazie Io non so come continuare Troppi ce ne sono Raga troppi Mi dite 9 9 ecco il qua 9 facciamoci subito No scusate 8 erano Cosa sto facendo 918 Facciamo così Ok Altra chest Che devo andare a mettere Di qua Vado a mettere a questo punto Questo vado a mettere di qua Chi ha altri video Altri pillager Ma guarda Io ho il future Ormai per queste cose Che coda di prima? Vieni qua Si non ha le frecce Coda di prima Ce n'è ancora un altro Oh grazie mille Tu li sciotti Non vale? Tu Ce n'è un'altra? Vediamo Quanti Quanti pillager ci sono? Eh Eh Questi sono nuovi Questi sono nuovi Questi sono nuovi Grazie mille per la cosa di rigenerazione Non scappare per favore E muorici Quanto dura ancora? Pochi secondi Per peccato Allora Mi sa che stanno là in alto Allora Sitti tutti Fermi tutti Fatemi vedere Io sono un pro di queste cose Dio quanti No Allora ragazzi Io scherzavo Quando dicevo Quando dicevo Che voi siete brutti Io scherzavo Vi hanno plagiato Oh cazzo Il mostro pure No Voi Schifi umani Aia Scendi da là Emo No dai ragazzi Sta pure il mostro gigante qua L'ho sentito Dov'è? Ma qual è questa? Totem? Ah 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 Ha il totem Dell'immortalità Che culo Che culo Ah qui ok Golem Stai messo bene Tu almeno Dimmi che stai bene Non penso Ce ne siano altri Oh mio dio Basta Ma tutti Li hanno ammazzati Villager Mi sa Ma no Ma non mi dire Così ti prego Non me lo dire Cioè Non con questa cosa Cioè Non così Dai No Ti prego Oh madonna Oh vabbè Tanto qua Ho fatto pure questo Ok Siamo Sì Siamo Ho un libro Ce l'ho Giusto? No Che fine ha fatto il mio libro Qua Canale a zucchero qua Mi servono due di pelle Ecco Che sto facendo Che sono tre libri Poi mi serve il legno Ah Ma non c'ho più il legno Ma che Kaiser C'ho sei C'ho sei di questi qua Vi rendete conto Sti cosi Ah Fatemi prendere Giustamente L'accetta Anche Questa rotta Andrà benissimo Sono finiti? Fatemi un attimo Ricontrollare Perché Io qua ho sentito Quel mostro gigante Orrendo brutto Che però non ho visto Fatemi Soltanto controllare Anche perché qua C'è anche La legna E il golem Dove è finito? Ma non mi dire Oddio Mi è scomparso il golem Non dirmi Non dirmi che è morto Pure l'un'altra volta Perché guarda Ok Fatemi controllare Per bene Golem Dove sei finito No raga Mi sa che il golem È morto Ecco qua il golem Golem Ci penso io Tranquillo Andiamo 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 Ma te ci penso io Con il muccio mio Ma tua madre Aia Ma tua madre Aia Che cazzo fai La lesbica No 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 Aia ma no è impossibile Questo qua fa così cioè Ah sono su camelo Oh no lo sto sprecato Oh attenzione Conto fra titani Sì Grandissimo golem Vai Comunque i golem sono fortissimi Io Dovevi giornare la versione Del minecraft alla 1.15 Anche lo snapshot va benissimo Perché va Cioè è incredibile Andiamo golem No Questo ve lo buttare io Ecco Possiamo andarcene Questo via Questi via Questo Si mette qua E via Ah ce ne possiamo andare Finalmente Ora è completamente finito A meno che proprio adesso Non si cosi proprio perché A meno che adesso non risponano Cioè Cribbio non penso Cioè dai non possono risponare così E i villager Sono tutti morti Ma Ma perché io Allora Legna Facciamoci Questa ben detta cosa Qua Mille geo Che ci faccio più adesso Con le geo io Adesso Non ci devo fare più niente Però lo faccio lo stesso Perché può servire In futuro Pure il libro mi manca Vuoi vedere Io concludo con la live Spero vi sia piaciuta Spero vi sia piaciuta